Sindaco Raunia, i DEOS di grado, quindi gli arredamenti esterni, delle attività commerciali, insomma in queste settimane a grado hanno avuto un po' più di attenzione rispetto al solito. È un piano, quello dei DEOS, che da anni tutti ne parlano, si discute, si fa, chi va avanti, chi va indietro. Qui a grado bene o male si è cercato di trovare un po' una soluzione che però, come al solito, come caratteristica di questa città, prima della soluzione ha avuto una marea di polemiche. Ma le polemiche non mancano mai, qui a grado effettivamente non ci facciamo mancare niente. È vero che l'amministrazione ha intrapreso un percorso, è un percorso che è stato iniziato prima che io diventassi sindaco e che poi io ho portato avanti, adempiendo in maniera puntuale a tutte le disposizioni di legge. Ci avevano chiesto di fare una verifica su quelle strade che fossero tutelate dal punto di vista monumentale, senza la quale tutte le strade che avevano più di 70 anni di storia sarebbero state tutelate. L'abbiamo fatto. Ci avevano chiesto di produrre un regolamento che sarebbe stato sottoposto al vaglio della sovraintendenza. Lo abbiamo prodotto attraverso un rapporto di collaborazione con le categorie economiche e inoltrato al vaglio della sovraintendenza già nel dicembre 2017. Ieri sera finalmente è pervenuta una prima nota scritta da parte della sovraintendenza, quindi che avremo la possibilità di contraddurre per quelle parti che ci sembrano restrittive o comunque penalizzanti. E finalmente questa mattina tramite PEC è arrivata un'ulteriore proroga per l'anno 2019 nell'emore dell'approvazione di questo regolamento che consentirà a tutti quanti, a noi in primis e alle categorie economiche e subito dopo, di poter affrontare questo percorso in maniera un po' più distesa. Senta, a Trieste vi fu proprio un caso analogo dove fondamentalmente la sovraintendenza disse qualcosa dopo che però la città si arrabbiò. Qui invece c'è stata una spaccatura, quindi un modo diverso di affrontare le cose. A un certo punto di ricordo a Trieste erano tutti uniti in maggioranza posizione per chiedere che si risolvessero i problemi dei locali. E qui invece si è usato anche una volta una situazione brutta dedicata per tutti per far politica. Ma io so e posso rispondere sul percorso che abbiamo intrapreso. Ripeto che è stato un percorso che ha osservato tutte le disposizioni di legge ed è un percorso che io oggi ho avuto cura di documentare anche attraverso un'esposizione da parte del mio dirigente, l'ingegnere Renato Pesamosca, che ha potuto in maniera puntuale ricostruire dal punto di vista dei documenti e degli atti tutto ciò che è avvenuto. Io non so cosa sia capitato a Trieste, non lo so. Vero è che questa amministrazione ha ottemperato a tutto e naturalmente avendo ottemperato a tutto ci sono anche delle aspettative affinché questo percorso possa concludersi nel migliore dei modi. Ovvero, da una parte c'è la sopraintendenza che ha tutto il diritto di tutelare il nostro patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico e via dicendo. Dalla parte opposta però ci sono anche le categorie economiche che in una cittadina turistica hanno tutto il diritto di poter lavorare avendo la certezza del diritto. Sì, però la sopraintendenza non può metterci un anno per rispondere. Io rispondo di quello che abbiamo fatto noi e non posso rispondere di quello che viene fatto da altri enti. Vero è che la sopraintendenza c'è stato un avvicendamento, è andato via il dottor Azzolini, è arrivato il nuovo sopraintendente, non voglio giustificare nessuno, un anno è un tempo che poi crea prensione, aspettative, i commercianti hanno bisogno di vedersi rinnovate le autorizzazioni entro l'anno e questo crea un certo fermento che va poi ad alimentare, come bene lei ha detto, la polemica politica. Bene, finalmente ci hanno risposto, lo hanno fatto per iscritto e adesso avremmo la possibilità di controdedurre sempre per iscritto le loro osservazioni e lo faremo assieme alle categorie economiche, amo grado da una parte e ascom dall'altra, perché siamo sicuri di essere dalla parte della ragione e tutto sommato di proporre una visione che è estremamente equilibrata, sia per le categorie che per quello che riguarda la tutela del paesaggio e del nostro patrimonio.